buonasera a tutti a chi è presente qui in sala e a chi ci segue da remoto come si dice e sono particolarmente felice di essere qui questo pomeriggio perché è da parecchio tempo che l'ordine degli ingegneri della città metropolitana di Venezia si occupa del tema delle acque alte della laguna e del mose l'opera di difesa più importante e impattante sulla città da molti punti di vista credo sia doveroso farlo perché Venezia è la nostra città capoluogo perché la sua laguna è la più grande laguna del bacino del mediterraneo e poi perché Venezia per la sua storia per il suo rilievo architettonico monumentale e culturale è sotto gli occhi di tutto il mondo. Nell'ambito dell'ordine di Venezia e con la collaborazione anche del collegio opera il gruppo di lavoro Acque Alte e Mose che ha l'obiettivo di acquisire e rendere patrimonio comune dei colleghi ingegneri e di coloro che vogliono partecipare gli studi, i progetti, i monitoraggi e tutto quanto è reperibile sul sui vari tavoli per incrementare la conoscenza del fenomeno dell'acqua alta in laguna negli abitati che vi prospettano e in particolare nella città di Venezia insulare. È essenziale il taglio tecnico scientifico che si vuole dare all'operato del nostro gruppo di lavoro. Scevro da tutte quelle polemiche che in questi anni hanno inquinato la realizzazione delle numerose opere che sono state già eseguite, il Mose ovviamente in primo piano e ovviamente anche prescindendo dalle vicende giudiziarie che lo hanno interessato. E quindi con molto piacere che concorriamo oggi a promuovere la conoscenza del libro del professor Adami insieme anche con l'associazione idrotecnica italiana che ha voluto, il professor Adami appunto che ha voluto scrivere sulla laguna di Venezia raccontando gli studi, le ricerche, insomma le vicende che in oltre 30 anni lui le ha vissute da attore, studi che sono stati fatti in tutto questo periodo. Lo ha fatto da grande esperto, il professor Adami è stato titolare della cattedra di misure e controlli dell'Università di Padova, è stato docente e insomma poi dirà meglio di me il professor Vixio nella sua introduzione. Insomma comunque grazie alle sue competenze in materia di idraulica ha vissuto dall'interno l'intera vicenda del Mose della quale conosce numerosi dettagli e quindi nel suo libro ha descritto dal punto di vista tecnico scientifico. Lo ringrazio quindi per volerci rendere partecipi di queste sue conoscenze per averlo fatto con un libro a carattere divulgativo che possa essere compreso da tutti coloro che hanno interesse e voglia di leggerlo senza preclusioni e con la curiosità di sapere cosa è veramente successo alla laguna di Venezia a partire dal 1500 perché gli inizi sono appunto nel XVI secolo. Quando per la prima volta venne spostata la foccia del Brenta su progetto di Fossombroni, Artico e Paleocapa e confesso devo dire che questa parte, questo inquadramento storico mi è molto piaciuto professore, la ringrazio proprio perché sono cose che sono in parte note ma non tutte note ma messe in maniera così sistematica sono indubbiamente molto molto interessanti. Ringrazio Marco Baldini collega dell'Ordine Ingegneri e del Collegio, efficientissimo e competentissimo coordinatore del nostro gruppo di lavoro MOSE e Acque Alte ma ringrazio anche tutti i colleghi, ce ne sono alcuni qui presenti e altri collegati da remoto, colleghi del gruppo di lavoro che forniscono sempre uno stimolante e costante apporto alle attività del gruppo medesimo. Il lavoro continua ormai da un paio d'anni e è emerso moltissimo materiale molto interessante. Ringrazio gli altri relatori del convegno di oggi, l'ingegner Reddi e l'ingegner Pozzato. Ringrazio il professor Bixio che introdurrà anche ciascun relatore nel suo ruolo di Presidente della Sezione Veneta dell'Associazione Idrotecnica Italiana che ha promosso insieme all'Ordine e al Collegio questo incontro, insieme naturalmente con l'Ateneo Veneto, abbiamo sentito prima la sua Presidente Dottoressa Magaraggia. Ringrazio anche i colleghi dell'Ordine di Padova che hanno sostenuto la realizzazione di questo libro e ringrazio Sandro Boato, Presidente del Collegio degli Ingegneri, al quale passo la parola.